I guerrieri che ho incontrato erano tra i più degni a cui poter mostrare i miei talenti. Purtroppo nessuno di loro era mio pari, anche se questo era prevedibile. Purtroppo questa diversità non ha impedito alle forze ISA di abbassarsi su Elkan. Il mio pianeta ha bisogno di un leader ancora più che mai. Un leader forte è in grado di portare ordine a Elkan proteggendolo allo stesso tempo dalle forze esterne. Un leader nato dal rispetto, un rispetto che naturalmente può nascere solo dal potere. E se la gente di Elkan e di Eva Solisa credono di conoscere il potere che è in me, si sbagliano di grosso e così pagheranno caro questo errore.